Gianni chiuso ormai questo classico torneo internazionale under 12 il lampo raccontami che significato per voi ha avuto questa edizione direi che è stata un edizione è molto molto buona livello femminile un pochino più alto rispetto al maschile però tutto sommato è andato tutto benissimo e abbiamo visto giocatori veramente forti per quanto riguarda questo sabato di finale abbiamo visto la vittoria della Gran Bretagna come 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 la racconti questa vittoria direi che la vittoria non era scontata è stata una guerra molto combattuta e quindi il risultato è stato incerto fino alla fine e poi forse per una maggior tranquillità mentale ha vinto la Gran Bretagna a chi ringraziamo chi salutiamo Gianni innanzitutto lo sponsor poi la regione lombardia che ci è stata vicina poi ringrosso ringraziamento al circolo olimpica tennis per la struttura messa a disposizione per quello che ha fatto e poi direi tutti tutti quelli che ci hanno aiutati un applauso anche a villa fenaroli per l'ospitalità e la gentilezza con cui hanno interagito con le varie delegazioni adesso dobbiamo giustamente fare il promo del prossimo appuntamento internazionale tennis qui all'olimpica tennis si 25 luglio campionati europei femminili per nazioni under 12 ci sarà la cerimonia di presentazione con le otto nazioni con tutti gli inni e autorità della regione lombardia sarà veramente una manifestazione molto importante e come sempre organizzata benissimo